Benvenuti in un nuovo video della Shamancraft Zoolocraft della qualcosa e oggi siccome l'ultima puntata non sapevamo che fare ci ho pensato un attimino, ho detto, siccome ho fare macchine da fare perchè non fare la redstone la redstone ci serve quindi oggi andiamo a minare redstone andiamo al classico livello 15 e vediamo se la troviamo però nel frattempo bisogna che chiudo un paio di buchi che ho fatto creare nell'ultima puntata allora questo è un po' il posto di nevato quindi ritorno a nevato come è giusto così anzi prima della redstone si può mangiare in un passaggio successivo diciamo facciamo invece una vediamo di fare una farm di cibo oddio che cosa brutta spaderia quindi andiamo di qua oh aspettate vi parlo un attimo la mano vediamo voi non potete capire come sto grattando ma con la barba vabbè allora rotten flash con la rotten flash cerchiamo di prendere un paio di pianticelle che voglio fare una determinata farm di farm una farm di farm vi piace la farm di farm? una farm una farm una farm cosa? per duplicare i materiali c'è anche un oggettino molto simpatico il quale ci metterà cioè se vi ricordate prima di ricominciare la serie sempre questa serie qua io ho fatto un macchinario con la manovella e voglio dire che ho macchinato con la manovella qua si c'è un tipo un maceratore a mano io potrei fare quello la per duplicare gli oggetti ok che sarà uno sbattimento però ci sta perché non usarlo c'era nella 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 ultimate un determinato bug così dicevano i creatori della mod perché non volevano che lo si utilizzasse in realtà però vabbè loro l'hanno messa quindi non vedo perché non utilizzarla c'era un bug con la turtle tanto tempo fa parlo io eh nella 1 6 4 4 5 6 come ricordo c'era un bug con la turtle che con la wrench con crescent hammer il quale praticamente faceva come posso spiegarvelo? ehm praticamente girava la leva che c'era sopra questo maceratore a manovella e questo qua diciamo che non era voluto dai dai modder per così chiamarli si dai modder dai diciamo che dicevano che era troppo easy dopo fare tutto quanto il marketing genio allora io avevo intenzione di scavare qua per farmi una bellissima farm di qualunque cosa questa questa sarà la sua larghezza ehm ehm potevate potevate dirmi che c'era dalla dirt uffa uffa vedi vedi non seguite manco il video ma come dite che c'era la dirt uffa lo utilizziamo tutto e ci faccia facciamosi due bellissimi strumenti belli gli stick pickaxe shovel bellissima la shovel sembra tipo un'asta di non so cosa di tipo qualche mago di tipo qualche mago bello bello mi piace bello bello mi piace che mi sono riempito l'inventare inutilmente mannaggia un due tre e quattro quattro vabbè iniziamo a scavare di qua e pensare che questo qua lo dovremmo riempire con la terra non faremo un cubo ma solo per terra dovremmo riempire per terra di terra poi un cubo oddio mamma mia dove lo vedo possibile fare un cubo qua c'era una torcia? non ho una torcia vabbè ho trovato la torcia la torcia pa 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 uno due tre stella quattro torce non mi ricordo se quello skin normale di minecraft si era animata la torcia un attimino vuoi vedere da quanto tempo sto registrando ok otto minuti ogni tanto darò una controllatina non fa mai male allora 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 dammi il carbone non troppo perchè dopo mi riduci a dover riempire tutto quanto qua sotto ok 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 mi sta venendo a noi da come una brutta di elementa mi sta venendo a noi da come una brutta di elementa si si mi è venuta la brutta di elementa questo non lo spacchiamo perchè se no dopo voglio vedere salire le scale che non ci stanno tra l'altro ok questo è un po' di ripiazzare questo è un po' di ripiazzare e questo è un po' di ripiazzare questo è un po' di ripiazzare beh andiamo a vedere se abbiamo un secchiello aia cominciamo a morire dormiamo adesso torni ha dormito? non ha dormito oh finalmente si può dormire c'è un creeper fuori dalla porta tutto a posto mmm avanti ma non è di qua scusami perchè è burro adesso? e 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 due speederi speeder ecco 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 c'è un po', 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 vieni qua, tristezza verde, solitamente l'invidia è verde, noi abbiamo la tristezza, allora, a noi ci serviva l'acqua, quindi, ora ci troviamo un creeper in casa, ok, meno male, mi serve l'iron, iron, silver, lead e iron, allora, per fare qualcosa che dicevo io dell'athlete, il greenstone, servono due di cobblestone e tre di stone, è un wooden gear, lo facciamo subito, wooden gear, ci serve un certo quarzo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ho sbagliato il crafting, ho apposito, ah, perché ho fatto il contrario con la stone cobblestone, mi sa che anche una, un'altra volta ho sbagliato così, e con questo lo spezziamo qui, e per fare la leva di sopra bisogna fare una cosa del genere, non mi ricordo, di fail, ah, ok, si, c'ero vicino, dimmelo, cambiano le recipe, dimmelo, tinor, copper ore, dove è, iron ore, eccolo, questo qua lo buttiamo qui dentro, magari accendiamo l'iron, giriamo la rotella, cioè la manovella, questo andrà qua al centro, il quale uscirà qua sotto, vediamo subito, non so adesso quante volte dovrà girare il cosettino qua, due iron dust delle nudo, nice, però noi già ce l'abbiamo qua l'iron, e magari già ce l'abbiamo pure, però vabbè, va sempre comodo per un book, ora che ci penso, facciamone due, che è meglio, che è meglio, allora, iron dust, vai, butta dentro, butta giù, nel frattempo giriamo una rotella, ancora con sta rotella, ce l'ho con sta rotella, mannaggia, è una manovella, non è una rotella, non è una rotella, annaio, a me stesso, via, due boccette, non è una rotella, ora ci serve l'acqua, e non ci serve manco da rompere, nice, non posso più correre perché ho finito il cibo, mannaggia, perché poi queste qua sono le cose a base, perché non le ho fatte ancora non l'ho capito, poi perché era andata così in crisi non l'ho capito nemmeno, era così easy da fare. ok, bisogna giocare con i cosi qua, uff, l'orona di qua, e qua, no vabbè, poi riempiamo tutto d'acqua, ora bene è meglio perché qua non riesco, questo qua, ok adesso più o meno fatto tutto tutto a posta no sbagliato devo fare un momento il materiale però eh cacchio non si può vedere qua faccio la slab e quindi mi manca solo ma non c'ho voglio dire un'altra volta indietro che a me manca la legna però mannaggia papà 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 dai su 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 dai che ci riusciamo dai questo giro lo facciamo che brutto spariamo un po' gli editor se c'è ovunque allora iniziamo a piantare i seed nice e diciamo che per questo puntato ho fatto un po' di quello che dovevo fare non cibo mannaggia niente per questo puntato diciamo che è tutto quindi alla prossima rimarrò con mezzo cuore appunto quindi alla prossima ciao ciao